Sotto una pioggia incessante con onda formata e vento da nord ovest di intensità tra i 13 e i 14 nodi si sono svolte le ultime due prove della regata nazionale ER che da venerdì scorso ha trasformato Bari nella culla della vela acrobatica giovanile con 26 equipaggi provenienti da 15 circoli di tutta Italia. Il tempo inclemente dei tre giorni di prove ha costretto il comitato di regata un lavoro straordinario per consentire ai regatanti di scendere in acqua portando quindi a termine solo 4 delle 12 in programma ad aggiudicarsi il primo posto assoluto e anche under 19 nella regata sono state Alfonso Palumbo e Domenico Palumbo del circolo della vela Bari. E' stata una regata complicata da un punto di vista meteorologico le quattro prove in tre giorni ne sono la dimostrazione commentano in coro i due Palumbo al termine della regata. Grande applauso durante la premiazione anche per lo staff del circolo della vela Bari insieme alle mamme e ai papà dei velisti che si sono impegnati nei momenti a terra per la riuscita dell'evento. Ringrazio il comitato organizzatore per la puntuale presenza in tutte le fasi di questa regata ha aggiunto la presidente del comitato di regata Valentina Bravi. Le condizioni non erano affatto buone e abbiamo faticato a stare in barca. E' stato fatto tutto il possibile e possiamo fare di più ma direi che in questo caso conclude. Ci possiamo accontentare.